Imprenditori edili nel mirino della Polizia Municipale ad Eboli. Nelle ultime ore i vigili urbani hanno sanzionato i responsabili di tre imprese edili e due committenti per aver posizionato una serie di impalcature occupando abusivamente il suolo pubblico. I controlli sono stati effettuati dai vigili urbani agli ordini del neocomandante Mario Dura, soprattutto nel centro storico. I caschi bianchi hanno appurato che le impalcature per effettuare lavori edili erano state posizionate abusivamente e sono scattate immediatamente le sanzioni, ognuna di mille euro. I vigili urbani hanno elevato sette multe nei confronti di altrettanti cittadini che hanno abbandonato i rifiuti per strada. Ogni sanzione ammonta a 200 euro. I controlli sono stati effettuati in via 4 novembre e in piazza Pezzullo. I trasgressori sono stati individuati dai vigili urbani grazie al Green Pass che erano nelle buste dell'immondizia. Prove inconfutabili che hanno consentito alla Polizia di emettere immediatamente le sanzioni. Ormai i controlli della Polizia Municipale sono quotidiani. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati anche dei ors abusivi, posti dinanzi alle attività di ristorazione e in qualche caso sono stati denunciati per abusivismo i proprietari degli esercizi commerciali, non in regola. Nei prossimi giorni i caschi bianchi effettueranno altri controlli per individuare ulteriori regolarità.